Il primo bando riguarda l'assegnazione del locale commerciale destinato a tabacchi ed icola souvenir e oggettistica. La SOACO, nel corso della riunione del CDA di ieri pomeriggio, ha dato il via libera al primo bando per l'assegnazione degli spazi destinati al commerciale all'interno dell'aeroporto di Comiso. Il bando sarà pubblicato tra domani e dopodomani. Intanto la società di gestione dello scalo casmeneo sta ultimando anche altri bandi, cioè quello relativo alla gestione dei negozi che saranno allocate all'ultimo piano dell'aeroporto. Queste sono state alcune delle notizie emerse dalla prima riunione del 2014 per la SOACO, in pentola tanti altri argomenti che sono stati posti all'ordine del giorno della lunga seduta di ieri. Oggi invece l'appuntamento è con l'assemblea dei soci della società di gestione, mentre il nuovo anno fa il suo ingresso con tante novità. In primis le nuove rotte, Dublino, Lituania, Pise e Francoforte, tutte targate Ryanair, trattative in corso anche per le rotte internazionali quali Russia e Polonia, tra le nazionali invece via Torino. Novità anche per la pista del Vincenzo Magliocco a tenuti il velibera dell'Ena che per l'atterraggio di aeromobili più grandi. A breve invece partirà il rifornimento carburanti a bordo o in fase di carico e scarico. Non si esclude che nelle prossime settimane possa partire anche l'operazione ampliamento quote societarie auspicato dal sindaco di Comiso Filippo Spataro.